Il pallone per Pellegrini, prova a diventare per Edin Dzeko! Un gol pazzesco di Edin Dzeko! Ancora Zagnolo, va via di prepotenza, sempre Zagnolo, il primo di Zagnolo, il costo costo da parte di Nicolò Zagnolo, 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 riva davanti alla porta, Zagnolo, possibilità di andare a tiro! Nicolò Zagnolo, un gol pazzesco! Come detto, allora, Pedro può calciare! Un gran gol di Pedro, il primo in maglia giallorossa! Un gol pazzesco!